Buonasera a tutti e benvenuti nel mio canale. Stasera studieremo la segnaletica stradale. Il codice della strada prevede i seguenti tipi di segnali. Segnali verticali, segnali orizzontali, segnali complementari e di cantiere, segnalazioni luminose, segnalazioni degli agenti del traffico. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. Le segnalazioni semaforiche, esclusa la luce gialla lampeggiante, prevalgono su quelle dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le segnalazioni degli agenti prevalgono su tutte le altre. Quindi viene prima il vigile, poi il semaforo e poi la segnaletica. Vediamo un po' una premessa sui segnali verticali. I segnali stradali verticali si dividono in segnali di pericolo, prescrizione, precedenza di vieto e obbligo, e di indicazione. I segnali sono installati di norma sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata, quando necessario per motivi di sicurezza o previsto da norme specifiche. Quindi diciamo che se la strada è a senso unico, abbastanza larga, allora i segnali verranno ripetuti anche sul margine sinistro. Quando, oltre al significato fornito dal simbolo all'interno del segnale, si rende necessario aggiungere altre indicazioni, queste sono riportate su uno o più pannelli integrativi. Stasera studieremo il secondo capitolo della patente B. I segnali di pericolo Ad esclusione della croce di Sant'Andrea e dei pannelli distanziometrici, hanno forma triangolare con un vertice orientato verso l'alto e sono tutti posti di norma alla distanza fissa di 150 metri dal punto d'inizio del pericolo segnalato. Nel caso in cui siano poste a distanza diversa, questo è indicato nell'apposito pannello integrativo. Questi segnali hanno lo scopo di indicare la natura del pericolo e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente, idoneo, per evitare il pericolo che è stato già segnalato. Ed eccoci al primo segnale di pericolo. Strada deformata Questo segnale di pericolo preannuncia un tratto di strada o di careggiata in cattivo stato. Quindi o deformata o dissestata o con pavimentazione irregolare. Infatti dall'immagine si nota chiaramente che la strada è piena di buche e di fossi. Può essere associato con un segnale di limite massimo di velocità. Come appunto qui ci sta dicendo il segnale di divieto di non superare i 30 km orari. È già sperimentato su strada che se aumento la velocità posso perdere il controllo del veicolo a causa appunto della strada in cattivo stato. Qui abbiamo proprio la definizione. Oppure può essere integrato con un pannello indicante anche, sempre pannelli integrativi che integra la lunghezza del tratto di strada deformata. Infatti qui la distanza rimane sempre 150 metri perché il pannello sottostante non fa riferimento alla distanza ma fa riferimento all'estensione cioè la lunghezza del tratto di strada. Lo si riconosce mediante queste due frecce parallele. Poi ancora qui abbiamo proprio l'esempio dell'estensione della strada deformata. Poi il segnale se a fondo giallo è usato in presenza di cantieri stradali quindi avrà il suo carattere temporaneo anziché permanente. Può dire che la strada deformata la stanno rifacendo quindi la stanno aggiustando a causa dei lavori in corso. Il comportamento è quello di tenere saldamente il volante per meglio controllare possibili sbandamenti e moderare la velocità in relazione alle particolari condizioni del fondo stradale anche per evitare le eccessive sollecitazioni e danni anche alle sospensioni. Vedete? Inoltre quando piove queste buche si possono riempire d'acqua non sapendo la loro posizione e la loro profondità possiamo rimanere anche in panne con il veicolo. Danneggiare seriamente il veicolo causa di incidenti oppure scansando un fosso se lo vedo dopo non scanso il controsenso degli altri veicoli. Dopo scansando il fosso va a finire che vado contro mano. Parlando delle sospensioni noi abbiamo qui lo schema che riguarda che lo sbandamento del veicolo può arrecare anche danni e sollecitazioni ai danni delle sospensioni e gli ammortizzatori vedete la molla a spirale sta attorno all'ammortizzatore quindi la molla si chiama sospensione all'interno abbiamo l'ammortizzatore poi ci sta la barra di torsione meglio conosciuta come barra stabilizzatrice che serve per evitare il rollio il codicamento del veicolo in curva e poi abbiamo la scatola dello sterzo che c'è il settore dentato il piantone e poi c'è il volante puoi ancora tenere presente che in caso di pioggia potrebbe aumentare il fenomeno dell'acquaplaning molto pericoloso l'acquaplaning perché dipende dalla zona soggetta ad allagamenti in questo caso la strada deformata potrebbe accumulare acqua l'acqua vedete e possiamo perdere il controllo del nostro veicolo l'acquaplaning dipende non solo dalle condizioni atmosferiche della strada ma anche dagli intagli insufficienti del battistrada infatti i sulchi che possiede la superficie del pneumatico ha lo scopo di accumulare l'acqua all'interno e di scaricarla all'esterno se ciò non è possibile vuol dire che la ruota è liscia si è consumata e quindi possiamo perdere il controllo del veicolo soprattutto in caso di pioggia quindi bisogna andare a velocità particolarmente moderata soprattutto se si traina un rimorchio ad esempio un caravan cioè la roulotte come si vede da questa immagine la strada è in cattivo stato è stato fatto il rattoppo vedete presenta crepe buche man mano che si allargano e facilmente possiamo perdere il controllo del veicolo questo era il primo segnale adesso spieghiamo il secondo segnale dosso è posto di norma a 150 metri prima di un dosso cioè una variazione di pendenza della strada ossia una salita seguita poi dopo successivamente da una discesa come vediamo come vediamo nelle immagini vedete con gli opportuni pannelli integrativi potrebbe anche presegnalare il dosso artificiale in assenza di quest'ultimo presegnala quello più pericoloso cioè il dosso naturale che abbiamo visto in precedenza questi sono i dossi artificiali allo scopo di far rallentare qualsiasi veicolo quindi preannuncio un tratto di strada molto pericoloso per la limitata visibilità quindi invece questo qua ha raffigurato il dosso artificiale che serve solo a scopo di rallentare vedete vedete la variazione di pendenza non è altro che un raccordo convesso cioè quando saliamo poi scendiamo il pericolo ce l'abbiamo proprio all'orizzonte vedete nella salita perché quando ci troveremo a che fare con una strada a due corsie a doppio senso di circolazione e per giunta anche la doppia striscia continua il sorpasso sarà vietato sarà vietato anche sorpassare una bicicletta nemmeno un veicolo sprovvisto di motore posso sorpassare ma questo vale in una sola pendenza cioè la salita non la discesa perché in salita abbiamo problemi di visibilità e quindi non riesco a scorgere il pericolo quando stiamo nel tratto discendente invece è come se io mi affaccio alla finestra e riesco a scorgere e a vedere tutto quello che c'ho davanti quindi su strada due corsie a doppio senso di circolazione come in figura saranno vietate tutte e cinque le manovre sosta fermata inversione retromarcia è il sorpasso nel tratto ascendente cioè in salita come potete vedere dall'immagine in discesa la linea diventa discontinua cioè viene tratteggiata nel senso che se voglio fare un sorpasso posso farlo perché ho di nuovo la visuale riesco a scorgere il pericolo dinanzi a me vedete il DOS è come come per definizione come se ci fosse un ponte con la schiena accentuata vedete una volta veniva chiamato ponte a schiena d'asino perché la schiena d'asino ha proprio questo dorso vedete che costringe a tutti gli utenti di non avere visibilità dall'altro senso di marcia soprattutto per il sorpasso vedete qua siamo sempre con la doppia striscia continua a due corsie e a doppio senso di circolazione quindi nel tratto ascendente come in figura non possiamo assolutamente fare il sorpasso vedete la macchina in figura anche la macchina retrostante dovranno mantenere il margine destro chi viene dal senso opposto che sta al centro del dosso e in discesa riesce a scorgere il pericolo nel senso che se vuole fare un sorpasso lo può fare vedete ovviamente la macchina bianca e quella nera non dovevano esserci ancora ancora qui vedete stiamo giunti quasi alla pendenza mentre invece il sorpasso si può fare se la careggiata è suddivisa sempre in due corsie sfrutto sempre la corsia di sinistra per il sorpasso però dovrà essere questo dosso a senso unico vedete qui dobbiamo salire quindi non abbiamo la visuale oppure si può fare il sorpasso quando le careggiate vengono separate dallo sparti traffico vedete e almeno ci devono stare due corsie per ogni senso di marcia qua stiamo in piena autostrada tre corsie per ogni senso di marcia quindi possiamo tranquillamente fare il sorpasso sia se si tratta del dosso sia se si tratta delle curve quindi ricordatevi che il sorpasso sarà garantito a senso unico a careggiate separate o due corsie per ogni senso di marcia qui abbiamo ancora la pendenza vedete che comincia a salire da lontano e questo era il dosso adesso spieghiamo la cunetta è un segnale di pericolo che preannuncia una cunetta si trova quindi prima di un tratto in discesa seguito da una salita come vediamo nell'immagine reale allora la cunetta a differenza del dosso che toglieva la visibilità perché era un raccordo convesso cioè il dorso stava davanti e mi si poneva come un muro e mi toglieva la visibilità questa volta il raccordo è concavo cioè è una discesa seguita appunto da una salita quindi a livello di sorpasso non lo vieta la manovra quindi io posso tranquillamente sorpassare sempre che non ci sia la striscia continua o la doppia striscia continua quindi se c'è la linea discontinua o come in figura manca la segnaleria orizzontale purché non c'è nessun segnale che me lo vieta io posso tranquillamente in questo caso sorpassare quel motociclo perché ho la visibilità mentre le quattro restanti manovre a differenza del dosso saranno sempre vietate la sosta la fermata l'inversione e la retromarcia quindi la cunetta non vi viete il sorpasso attenzione ai quiz infatti queste sono le differenze la strada deformata e la cunetta non viete il sorpasso vietava il sorpasso solo nel tratto in salita del dosso perché mancava appunto la visibilità la strada in cattivo stato e la cunetta non mi tolgono la visibilità all'orizzonte vedete questa non è altro che un'anomalia altimetrica concava quello che dicevo io prima vedete quindi praticamente è una discesa seguita da una salita da non confondere con l'altro segnale che è la strada in cattivo stato eccola qua vedete questa è un'immagine reale di una cunetta discesa e poi salita ovviamente anche la cunetta nasconde un pericolo che a breve ve lo rilevo vedete qui possiamo tranquillamente sorpassare abbiamo la visibilità in questa cunetta abbiamo la striscia discontinua e possiamo sorpassare anche se la strada è a doppio senso vedete per fare il sorpasso io ho alla mia sinistra la striscia discontinua che mi annulla momentaneamente la linea continua ovviamente solo per quella l'asso di tempo per fare il sorpasso per poi rientrare di nuovo a destra anche qui stiamo su due carreggiate separate dallo spartitraffico qui invece abbiamo il dosso vedete abbiamo prima il dosso e poi successivamente c'è una bella cunetta lunga quindi solo nel tratto in salita del dosso infatti a terra ho la striscia continua vedete e quindi non posso sorpassare in salita del dosso però ripeto invece qui all'orizzonte abbiamo una cunetta quindi non abbiamo problemi di visibilità anche qui vedete una semicunetta al centro e queste sono le circostanze nel percorrere la cunetta ovviamente nascondevo in pericolo vi ho detto prima la cunetta qual è il pericolo è che con l'aggiunta di questo pannello la cunetta potrebbe allagarsi infatti il pannello sottostante indica una zona soggetta a forti allagamenti ovviamente tutto questo nasce in caso di pioggia prolungata ecco l'abbinamento del pannello integrativo della zona soggetta ad allagamento con il pericolo con il pericolo abbinato alla cunetta perché potrebbe anche fiancheggiare un fiume che in caso di pioggia potrebbe stradipare e allagare tutta la sede stradale oppure se non è un lago e un fiume una pioggia prolungata vedete anche qui abbiamo un avvallamento di strada che accumula acqua quindi in caso di pioggia tenete presente questa possibilità che si allaga la sede stradale e qui abbiamo le immagini che parlano quindi il comportamento sarà quello di tenere il volante con una presa più sicura e moderare la velocità per non perdere il controllo del veicolo ed inoltre per evitare le eccessive sollecitazioni e danni alle sospensioni agli ammortizzatori al semiasse alla barra stabilizzatrice ai mozzi delle ruote quindi come abbiamo detto prima bisogna sorpassare con particolare attenzione solo se le condizioni lo consentono qui abbiamo la doppia striscia continua siccome è una cunetta io posso sorpassare senza toccare nessuna delle due strisce continue quindi posso sorpassare un veicolo sprovvisto di motore una motocicletta mi devo regolare perché quel piccolo spazio che c'è se invece la linea è discontinua non abbiamo questo problema possiamo invadere anche la corsia opposta dato che la cunetta presenta visibilità quindi fa capire che in caso di pioggia tenete presente la possibilità dell'acqua planning per accumulo di acqua nella cunetta inoltre è possibile che si accumulino anche fango e detriti e con queste immagini abbiamo spiegato per definizione esatta il comportamento da adottare con presenza della cunetta siamo giunti alle curve pericolose curva pericolosa a destra e spiegheremo anche la curva pericolosa a sinistra infatti il comportamento è uguale praticamente sono sempre entrambi i segnali che vengono installati poco prima che inizia il pericolo qui la distanza fissa di 150 metri e presegnano appunto una curva pericolosa a destra ovvero a sinistra preannunciano quindi un tratto di strada non rettilineo cioè una strada che non è dritta pericoloso anche soprattutto per la limitata visibilità o per caratteristiche del tracciato dove saranno vietate tutte e cinque le manovre sosta fermata inversione retromarcia ed il sorpasso se la strada ha due corsie a doppio senso di circolazione i due segnali possono essere integrati con questi due pannelli integrativi integrante questa è proprio la scritta tornante uno o più tornanti il tornante ovviamente non è una curva normale non le troveremo su strade normali ma su strade di montagne perché sono curve a gomito cioè con raggio talmente ridotto dove particolarmente è una curva che gira su se stessa quindi invece di girare e poi finire gira ancora quindi è proprio come se fosse a ferro di cavallo vedete dove tassativamente a doppio senso vieta ogni circostanza di manovra perché manca la visibilità la punta di freccia vedete in questa immagine mi fa capire la curva dove sarà proiettata quindi a 150 metri la curva sarà a destra per quanto riguarda il comportamento è che su strada due corsie a doppio senso di circolazione come abbiamo accennato prima avendo anche la singola doppia striscia continua al centro saranno vietate tutte e cinque le manovre vedete cosa succede chi ottempera a tale obbligo di comportamento cioè chi non rispetta il sorpasso rischia di avere un brutto incontro con i veicoli dal senso opposto oppure nelle domande dei quiz vi dice di moderare la velocità regolando la relazione alla visibilità infatti dovreste poter arrestare il caso di un ostacolo improvviso come in questa immagine qui noi dobbiamo percepire e prevedere gli eventuali sbandamenti degli altri veicoli o peggio ancora un incidente tuttavia coloro che sono coinvolti in un incidente soprattutto in curva in quell'asso di tempo dovranno scendere subito col giubbotto catarifrangente e posizionare il triangolo mobile che va messo ad almeno 50 metri vedete in questo caso ci sono curve e c'è anche il divieto di sorpasso quindi in questo caso non posso sorpassare nessuno nemmeno una bicicletta vedete in quest'altro caso vedete la macchina in figura sta contro mano perché stiamo su strada due corsie e a doppio senso di circolazione sempre anche qui abbiamo due corsie a doppio senso di circolazione quindi sono tutte le cinque manovre vietate quindi il cartello A indica un singolo tornante il cartello B più tornanti esattamente tre quindi vi dicono entrambi quanti tornanti ci sono mentre invece quest'altro pannello indica il primo di una serie cioè si riferisce al numero progressivo quindi come per esempio un palazzo di cinque piani se stiamo qui al primo piano non è detto che quel palazzo è di un solo piano quindi questo viene messo sul posto sul raggio di curvatura e indica il primo di una serie quindi il numero progressivo e infatti qui stiamo all'altezza del pannello con il numero del tornante cioè il numero progressivo sequenziale vedete i tornanti sono curve a raggio stretto a gomito dove non abbiamo assolutamente né spazio né visibilità queste sono tutte le immagini per arrivare alla vetta quindi man mano che raggiungiamo il passo dalla montagna più alto le curve e le salite anche saranno sempre più ripide inoltre inoltre bisogna modellare la velocità tenendo ovviamente in considerazione sia il raggio di curvatura stretto ma se non che anche allo stato di usura del battistrada degli pneumatici infatti lo spessore minimo del battistrada per legge per poter circolare ed evitare sanzioni amministrative dovrà essere non inferiore a 1,6 mm qui con la monetina di 2 euro 1 euro 50 centesimo quel che sia possiamo vedere se almeno corrisponde allo spessore minimo consentito altrimenti la ruota va obbligatoriamente sostituita a maggior ragione se abbiamo inserito il ruotino come potete vedere il ruotino ha piccole dimensioni è di piccole dimensioni perché è stata battezzata ruota di soccorso nel senso che si trova nel vano posteriore dell'abitacolo e viene usata solo per questioni di emergenza quindi in caso di foratura noi mettiamo questo ruotino il ruotino ha dimensioni più ridotte solo per non occupare troppo spazio nel vano posteriore e infatti quella cifra anche sul cerchione 80 vuol dire che non dobbiamo superare gli 80 km orari quindi non possiamo pretendere di andare a velocità effettiva perché non è un pneumatico diciamo così che può sostenere la velocità di un pneumatico regolamentare quindi soprattutto in curva dobbiamo evitare la scarsa tenuta di strada poi ancora in presenza di nebbia foschie nuvelo di fumo ancor peggio vedete dobbiamo rispettare il limite massimo di velocità altrimenti il veicolo può dare origine a fenomeni sovrasterzanti o sottosterzanti che dipendono dagli angoli di deriva delle ruote e dall'attrazione a maggior ragione ancora la curva con più attenzione bisogna affrontarla in caso di pioggia soprattutto se la strada è bagnata perché diminuisce l'aderenza e aumenta il fenomeno di slittamento e lo spazio di frenatura il sorpasso invece si può effettuare quando la carreggiata ha senso unico di circolazione quando la strada ha due carreggiate separate dallo sparti traffico come in questo caso siamo in piena autostrada due carreggiate separate oppure due corsie per ogni senso di marcia qui invece vieta tutte e cinque le manovre vedete perché stiamo a due corsie e a doppio senso con la doppia striscia continua per giunta e abbiamo spiegato il comportamento della curva pericolosa a destra ovvero a sinistra adesso passiamo alla doppia curva pericolosa la prima a destra si legge sempre dal basso verso l'alto e doppia curva la prima a sinistra infatti ho messo la macchina per farvi vedere da dove si parte sempre dal basso vediamo il comportamento quasi simile alle curve singole solo che qui dobbiamo stare attenti perché ci sono più curve in successione in questo caso due quindi non sono altro che segnale di pericolo che preannunciano appunto che a 150 metri dopo ci sarà una doppia curva pericolosa la prima a destra come in figura oppure la prima in quest'altra figura la prima a sinistra oppure una serie di curve in successione mediante la scritta dei tornanti quindi sono sempre tratti di strada non rettilinei cioè storti con limitata visibilità abbiamo accennato già prima che cos'è del tornante sono le curve a gomito che le troveremo su strade di montagne come potete vedere dalle immagini viste dall'alto da un drone vedete quindi ognuno deve mantenere il più possibile il margine destro della carreggiata il segnale come di consueto può essere sempre abbinato con la scritta dei tornanti singoli oppure più tornanti questo invece abbiamo detto già prima che era il numero progressivo quindi il primo di una serie questo invece si trova sul posto proprio un delineatore di curva stretta oppure di tornante che cosa succede con questo pannello adesso allora adesso il segnale non vi sta dicendo più che ci sono due curve ma ce ne saranno per un'estensione di 2 chilometri 8 infatti se ci sono 30 tornanti 40 tornanti non li dovete contare più allora per abbreviare i tempi di preavviso e anche di segnaletica vengono espressi con la lunghezza cioè l'estensione del tratto di strada interessato come me ne accorgo io quando il pannello integrativo espresso in metro e in chilometri riporta come nelle immagini due frecce parallele quindi il comportamento è quello di mantenere strettamente la destra e poi sempre quelle famose manovre vietate che erano ben cinque quindi la sosta la fermata l'inversione la retromarcia ed il sorpasso quindi bisogna regolare la velocità va in base alla densità della visibilità stretta poi dobbiamo sempre tenere in considerazione che il veicolo sottoposto ad una strada non rettilinea cioè storta in curva va a incontro delle forze la forza centrifuga e la forza centripeta la forza centrifuga ci spinge verso l'esterno della curva mentre invece la forza centripeta ci attrae dall'interno qui noi dobbiamo moderare la velocità in modo che dobbiamo mantenere un bilanciamento tra queste due forze e poi ovviamente dipende anche dalle condizioni delle sospensioni ammortizzatori vedete per evitare che la ruota potrebbe perdere l'aderenza e per forza inerziale il veicolo comincia a sbandare inoltre dipende anche dai carichi soprattutto i carichi che stanno sul tetto perché il baricentro più alto è più c'è il rischio di ribaltamento in curva del veicolo quindi ci sarà una minor tenuta di strada poi verrà ripetuto sempre il segnale che mi raccomando di non sorpassare a nessuno vedete anche se come in figura non bisogna effettuare le manovre di sorpasso perché ciò è vietato anche in questo caso cioè anche in caso di veicoli molto lenti di ciclomotori di motociclette e figuriamoci le macchine come in figura vedete sta a cavallo della doppia striscia continua assolutamente sarà vietato poi bisogna sempre percorrere con più attenzione le curve in caso di pioggia di neve ghiaccio quel che sia raccomanda anche per i motociclisti quindi anche per loro ci sarà il divieto delle cinque manovre e di mantenere strettamente la destra bensì anche moderare la velocità riducendola opportunamente in base al raggio di curvatura e l'abbiamo spiegato le doppie curve pericolose adesso passiamo al passaggio a livello con barriere o con semi barriere quindi il passaggio a livello custodito allora questo segnale di pericolo preannuncia un attraversamento ferroviario passaggio a livello monito di barriere o semi barriere e con un numero qualunque di binari e precede una croce di sant'andrea dipinta sulla carreggiata attenzione quiz la croce di sant'andrea non quella verticale ma quella orizzontale cioè quella dipinta sul manto stradale infatti sto parlando di questa croce vedete questa croce dipinta a terra si trova su qualsiasi passaggio a livello con le iniziali p ed l appunto passaggio a livello infatti che cos'è il passaggio a livello non è altro che un attraversamento a raso di binari di una linea ferroviaria ripeto linea ferroviaria se dice tramviaria è falsa perché qua non passa il tram passa il treno ad alta velocità è posto di norma a 150 metri prima del passaggio a livello unitamente al primo dei pannelli distanziometrici quindi vedete quello con tre barre rosse esattamente così infatti i pannelli distanziometrici appunto servono ad indicare il progressivo avvicinarsi al passaggio a livello ed il secondo e il terzo sono posti invece rispettivamente a due terzi 100 metri e un terzo 50 metri della distanza tra il segnale di pericolo e di binari quindi vengono posti rispettivamente 150 100 e 50 metri ogni tacca rossa striscia rossa obliqua sono 50 metri di distanza e vanno discendenti lungo la carreggiata in corrispondenza appunto del pericolo una sorta di countdown 3 2 1 e poi devi essere pronto a fermarti in caso di segnalazione d'emergenza perché sul posto troveremo i suoni acustici e i dispositivi luminosi andiamo per ordine allora qui stiamo a 150 metri qui stiamo a 100 metri ed infine qui stiamo a 50 metri dal pericolo quindi dobbiamo già avere una velocità molto bassa perché all'occorrenza eventualmente bisogna fermarsi allora abbiamo detto prima che ci sono i dispositivi di sicurezza quindi può essere eseguito da un dispositivo acustico a campana che avverte della chiusura delle barriere ed un segnale luminoso a luce rossa fissa collocati sulla destra della strada per avvertire della chiusura delle barriere ovviamente se il passaggio a livello è con barriere porta una sola luce rossa fissa che stiamo vedendo adesso nelle immagini vedete quindi passaggio a livello con barriere significa quando tutta la strada è protetta dalle barriere quando invece il passaggio a livello è con semi barriere vedete la protezione è a metà e che cosa cambia che che se il passaggio a livello è appunto con semi barriere il segnale è seguito da due luci rosse lampeggianti alternativamente e da un segnale acustico a campana quindi anziché una luce rossa fissa ce ne saranno due che lampeggeranno alternativamente sempre di color rosse poi c'è poi c'è anche quindi vuol dire che il passaggio che il passaggio a livello le barriere sono in avaria nel frattempo che le riparano noi dobbiamo cambiare strada qui invece abbiamo il passaggio a livello con barriere vedete quindi questi dispositivi ottici e luminosi dureranno per tutta la durata del passaggio del treno fino alla fine del suo passaggio in modo da evitare collisioni con il convoglio ferroviario vedete potrà essere abbinato ad un eventuale stop vedete qui praticamente non possiamo attraversare il passaggio a livello semibarriere facendo lo slalom tra i binari molto pericoloso quindi il comportamento è quello di modellare la velocità per essere pronti a fermarsi se le barriere o le semibarriere sono chiuse o stanno chiudendosi o se in funzione dispositivo acustico o luci rosse non è consentito transitare tra una sbarra e l'altra se le semibarriere sono chiuse o impegnare il passaggio a livello se il traffico intenso impedisce di sgomberarlo vedete come in questo caso è assolutamente vietato è molto pericoloso se il veicolo invece si ferma per avaria sui binari il conducente deve adottare ogni iniziativa utile al fine di evitare incidenti quindi avvisare subito l'ente per andare alla strada la polizia affinché avvisano alla stazione ferroviaria su quel treno su quel preciso istante almeno il macchinista comincia a frenare il treno per emergenza in modo da evitare l'impatto quindi è vietato fermarsi sostare in corrispondenza in prossimità del passaggio a livello passare fra una semibarriera e l'altra se queste sono abbassate nel caso di arresto forzato del veicolo quindi se il veicolo è guasto noi dobbiamo chiamare le forze soccorsi se invece il veicolo rimane intrappolato tra le due sbarre possiamo anche sfondare le sbarre e poi ovviamente con l'assicurazione riparare i danni poi sarà consentito invece sorpassare entro la semicareggiata a destra per affiancarsi ai veicoli fermi in attesa sempre se c'è lo spazio necessario e abbiamo spiegato il passaggio a livello con barriere e semi barriere adesso spieghiamo il passaggio a livello senza barriere incustodito questo segnale di pericolo preannuncia un attraversamento ferroviario a livello senza barriere ed è posto sempre di norma a 150 metri dai binari è integrato come l'altro con il pannello distanziometrico a tre barre rosse il primo della serie dopo il segnale è subito prima dei binari è posto il segnale di croce di sant'andrea se la sede ferroviaria avrà un solo binario quindi qua troveremo la croce quella là verticale non solo quella orizzontale a terra ma anche quella là verticale oppure doppia croce di sant'andrea si avrà più di un binario quindi se ci sono due o più binari metteranno sempre due croci di sant'andrea poi sempre la doppia croce di sant'andrea o quella singola sono integrate sul posto con la segnalazione acustica e con le due luci rosse lampeggianti alternativamente quando la visibilità verso la ferrovia è insufficiente le luci entrano in funzione poco prima dell'arrivo del treno e continueranno sino alla fine del suo passaggio il segnale di fermarsi e dare precedenza quando la visibilità verso la ferrovia diventa sufficiente solo a breve distanza dal binario troveremo lo stop vedete qua abbiamo una croce singola un solo binario doppia croce di sant'andrea due o più binari per motivi di spazio la croce di sant'andrea può essere messa anche in senso verticale vedete quindi il risultato non cambia o orizzontale o verticale una croce indica sempre un solo binario e anche la doppia croce di sant'andrea può essere disposta sia in orizzontale che in verticale come in figura sempre per questioni di spazio vedete qui abbiamo sempre un passaggio a livello senza barriere con due o più binari perché c'è la doppia croce di sant'andrea quindi questi sono tutti i dispositivi che troveremo al passaggio a livello senza barriere croce singola doppia croce le croci verticali e i pannelli distanziometrici qui abbiamo un solo binario un solo treno che potrebbe passare sta passando perché è abbinata alla luce rossa accesa anche qui stiamo sempre con un solo binario qui sempre un solo binario possiamo attraversare l'attraversamento ferroviario nel caso in cui le luci sono spente però attenzione qui bisogna fermarsi in ogni caso perché c'è il segnale di fermarsi e dare precedenza proprio quando la visibilità verso la ferrovia diventa sufficiente solo a breve distanza dal binario quindi non avendo quella visibilità con la coda dell'occhio bisogna fermarsi assicurarsi che non sopraggiunge nessun treno per poi proseguire il comportamento è quello di rallentare in relazione alla visibilità che presenta il passaggio a livello per potersi assicurare che non ci siano treni in arrivo sia da destra che da sinistra e poter eventualmente arrestare il veicolo prima dell'attraversamento ferroviario se è in funzione appunto il dispositivo acustico a campana oppure se sono accese come ho detto prima le luci rosse lampeggianti oppure ho il segnale verticale di stop se la ferrovia ha più binari prima di attraversare assicurarsi che il treno circolante sul binario è più vicino non ne nasconde un secondo in arrivo sull'altro binario non sono consentite la sosta la fermata in prossimità in corrispondenza dei binari ed il sorpasso è vietato se l'attraversamento non è regolato dal semaforo se il passaggio a livello è sbarrato da cavalletti a strisce bianche e rosse non è possibile attraversare i binari non è necessario usare il segnalatore acustico prima di attraversare i binari usare sempre la massima prudenza per evitare collisioni con il treno infatti qua vedete hanno chiuso perché ci sta qualche anomalia sull'impianto elettrico sia quello luminoso che quello acustico quindi hanno messo i cavalletti per constatare un passaggio a livello momentaneamente chiuso qui dobbiamo fare strade alternative anche qui l'hanno totalmente chiuso qui invece ci dobbiamo fermare perché appunto sta passando il treno vedete queste sono tutte le immagini di un passaggio a livello senza le barriere e abbiamo spiegato anche il comportamento croce di sant'andrea adesso spieghiamo la croce di sant'andrea singola oppure quella doppia quindi doppia croce di sant'andrea entrambi si trovano sul posto quando il passaggio a livello è incustodito cioè senza barriere quindi questi segnali di pericolo sono posti nelle immediate vicinanze dei binari di un attraversamento ferroviario a livello senza barriere il segnale croce di sant'andrea indica che la sede ferroviaria ha un solo binario la prima figura mentre la doppia croce di sant'andrea che la linea ha più di un binario e quindi invita a fare particolare attenzione prima di attraversare perché potrebbero transitare più treni infatti come ho detto prima se passa un treno ne potrebbe nascondere l'arrivo di un altro successivo quindi bisogna prestare maggior attenzione i due segnali sono posti sulla strada dopo il passaggio a livello senza barriere mi raccomando i quiz e dopo i pannelli distanziometrici a barre rosse vedete qui invece abbiamo la doppia croce di sant'andrea anch'essa si trova sul posto e può essere applicata sia in senso orizzontale che in senso verticale e poi i segnali la croce singola doppia croce di sant'andrea può essere abbinato al segnale di stop i segnali i segnali non possono avere fondo giallo neanche in caso di lavori i segnali doppia croce di sant'andrea possono essere abbinati al segnale di stop come quella singola che abbiamo visto prima e impongono di arrestarsi entro la striscia di arresto se in arrivo il treno qui abbiamo un solo binario con la disposizione di una croce singola verticale ed il segnale di stop nell'immagine il segnale croce o doppia croce di sant'andrea possono essere abbinati al segnale di stop come in figura e impongono di arrestarsi entro la striscia trasversale di arresto se in arrivo il treno infatti lo stop viene messo per mancanza di visibilità poi abbiamo i pannelli distanziometrici i pannelli raffigurati sono posti di norma prima di un qualsiasi passaggio a livello rispettivamente a 150 100 e 50 metri dall'attraversamento ferroviario e servono appunto ad indicare che ci sta avvicinando al passaggio a livello e eventualmente si trova una prima dell'eventuale croce di sant'andrea il pannello con tre barre obliquo rosse è il primo che si incontra approssimandosi ai binari ed è posto anche sotto al segnale di pericolo o anche trovarsi al segnale del ponte mobile che è breve andremo a spiegare anche quello passiamo al segnale 14 attraversamento tramviario questo segnale preannuncia fuori e dentro i centri abitati una linea tramviaria quindi si potrà incrociare un tram ma non un filobus attenzione quiz il tram ha i binari di ferro e le ruote di ferro quindi cammina sui binari il filobus invece cammina mediante gli pneumatici qui non ha niente a che vedere con il tram perché il tram ha il diritto di precedenza quindi questa linea tramviaria non è regolata da semafori che incrocia la carreggiata stradale o la riduce infatti con presenza dei binari tramviari a raso riduce lo spazio utile per la circolazione dei veicoli il segnale indica al conducente di porre maggiore attenzione per non intralciare la marcia del tram attenzione la distanza di arresto del tram è maggiore di quella degli autoveicoli fino a 5 volte superiore è altresì vero che bisogna fare attenzione alla possibilità della diminuzione di aderenza delle ruote del proprio veicolo se si frena sui binari specie quando il fondo stradale è bagnato o se stiamo conducendo un veicolo a due ruote vedete in questo caso si deve procedere con cautela moderando la velocità e tenendo conto della riduzione di spazio utile per la circolazione dei veicoli dovuta al transito del tram e dell'eventuale presenza di pedoni alla fermata quindi dobbiamo tenere in considerazione lo spazio vedete questo è un conducente che non ha calcolato bene le dimensioni di spazio qui mi fa capire che bisogna moderare la velocità evitando brusche frenate anche qui non si può sorpassare a destra l'autobus filobus e il tram quando lo spazio non ci consente di effettuare la manovra senza pericolo vedete dobbiamo tenere in considerazione dello spazio ridotto sulla carreggiata anche in questo caso dare precedenza assoluta al tram senza intralciare la sua marcia qui dobbiamo dare precedenza ai pedoni perché qui abbiamo una sede tramviaria propria vedete non è promiscua come quella precedente quindi si può circolare sui binari tramviari a raso senza ostacolare la marcia del tram qui il tram viaggia sul margine destro adiacente al marciapiede allora vediamo adesso i casi in cui si può soppassarlo a destra questo tram si può soppassarlo a destra quando il tram è in marcia come in questo caso fermo restando però che ci sia lo spazio necessario oppure un altro caso il tram si può sorpassare a destra se ha la sede tramviaria propria oppure sempre quando è in marcia e ci sia lo spazio necessario se invece si ferma al centro della strada per la salita e discesa dei passeggeri si può sorpassare il tram solo se c'è l'apposito salvagente sulla carreggiata altrimenti rischiarete di investire i pedoni quindi se il tram viaggia al centro strada anche senza salvagente lo possiamo sorpassare a destra se invece sta fermo ci deve stare l'isola salvagente è infatti il salvagente quello che protegge i pedoni non solo agevola anche la salita e discesa dei passeggeri da tutti i mezzi pubblici quindi a partire dal tram dal filobus dall'autobus e anche dal tassi quindi queste sono le circostanze in cui possiamo sorpassare a destra il tram vedete quando il tram è fermo e c'è l'isola salvagente possiamo sorpassare il tram a destra senza pericolo senza mettere in pericolo i pedoni infatti il pedone poi dopo dovrà attraversare la carreggiata qui abbiamo un altro salvagente vedete quindi sorpasso sempre a destra del tram a sinistra invece quando è fermo purché si rimanga entro la propria semi carreggiata quindi se c'è lo spazio necessario a sinistra del tram posso sorpassarlo a meno che non ci sono i doppi binari tramviari a doppio senso per attenzione qui quindi se qua abbiamo due carreggiate separate a senso unico il tram che viaggia sulla destra può essere sorpassato a sinistra come un normale veicolo qui lo sorpassiamo a sinistra come un normale veicolo perché sta sul margine destro il tram vedete anche in questo caso lo possiamo sorpassare alla sinistra anche da qui qui stiamo a Napoli vedete qui è diversa la carreggiata perché ce ne sono ben tre infatti la carreggiata centrale avrà solo il passaggio dei tram quindi questa è una corsia preferenziale noi dobbiamo stare solo ai lati la carreggiata di destra per l'andata e la carreggiata di sinistra di ritorno qui è un'altra un altro caso che se la strada è a senso unico il tram può essere sorpassato a sinistra come in questo caso vedete sempre a sinistra qui sempre se la strada è a senso unico da questa linea tramviaria qui invece lo dobbiamo sorpassare a destra c'è anche l'obbligo di passare a destra del salvagente poi ancora abbiamo sempre il tram che viaggia al centro strada poi ancora vediamo il tram che viaggia sul margine destro quindi sempre a sinistra il sorpasso qui invece stiamo a doppio senso qui dobbiamo stare per forza dietro qui ci sono i doppi binari tramviari in quel caso solo a destra che c'è lo spazio necessario vedete e qua abbiamo quella centrale che è riservata solo ai mezzi pubblici qui lo possiamo sorpassare da sinistra allora qui è il caso in cui lo possiamo sempre sorpassare da destra vedete come stanno questa macchina grigia e rossa lo sorpassiamo a destra perché c'è lo spazio necessario e il tram già viaggia al centro strada qui sempre dalla destra e qui se la gareggiata centrale non è riservata possiamo sorpassarlo a sinistra qui invece abbiamo due gareggiate separate quindi una volta che stiamo al ritorno bisogna stargli per forza dietro vedete qui abbiamo la nostra semicareggiata sulla destra da percorrere qui assolutamente non si può sorpassare perché c'è la striscia continua quindi gli dobbiamo stare dietro attraversamento pedonale preannuncio un attraversamento pedonale contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata se vi ricordate nella prima lezione delle definizioni stradale di traffico dicemmo che l'attraversamento pedonale sono una serie di strisce bianche parallele all'asse della strada dove consente il transito e quindi l'attraversamento dei pedoni sulla carreggiata nelle strade extraurbane è posta di norma a 150 metri l'attraversamento e può essere usato anche nei centri abitati il comportamento sarà quello di rallentare per essere pronti a fermarsi e dare la precedenza ad eventuali pedoni che attraversano sulle strisce ciò non toglie che se un pedone distratto attraversa fuori dalle strisce non significa che lo dobbiamo mettere sotto dobbiamo sempre all'occorrenza fermarsi e dargli la precedenza perché dalla ragione possiamo passare al torto inoltre io devo sempre rispettare i limiti di velocità in città e fuori città e all'occorrenza fermarsi per non investire il pedone come in questo caso vedete un altro caso molto importante e pericoloso che è vietato sarà vietato sorpassare un veicolo fermo che dà precedenza allo stesso pedone vedete noi dobbiamo evitare dobbiamo evitare questa situazione qui quindi non deve nascere questa situazione il segnale comporta anche il divieto di sorpasso vedete quindi all'occorrenza fermarsi vedete qua abbiamo un quadrivio un'incrocio a quattro bracci e nella parte in basso i pedoni devono attraversare la carreggiata ecco qua all'occorrenza ci fermiamo ove il pedone si accinge all'attraversamento queste sono tutte le serie di strisce bianche parallele all'asse della strada con definizione appunto di attraversamento pedonale come di consueto vedete qui un altro veicolo che è intento a fare un sorpasso molto pericoloso perché la macchina che c'è davanti può ostruire la visibilità del pedone anche il pedone non può percepire il pericolo da lontano quindi qua il conducente del veicolo che sta facendo un sorpasso può commettere un'infrazione grave al codice della strada e mettere in pericolo al pedone quindi è sempre sottinteso il divieto di sorpasso di un veicolo che abbia rallentato o si sia fermato per far attraversare i pedoni e il divieto di sosta e di formata dove sulle strisce pedonali il codice della strada prevede anche che il divieto di oltre al sorpasso e il divieto di sosta e di fermata questo è un attraversamento pedonale fatto appositamente rialzato allo scopo di rallentare perché è come se fosse un dosso artificiale con le strisce pedonali incorporate qualora non si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sulle apposite strisce si può incorrere nella sottrazione di punti dalla patente vedete qua commette infrazione perché ha sostato sulle strisce pedonali altri esempi di sosta selvaggia vedete qui ci sta anche l'orario è permanente il divieto di sosta 24 ore su 24 anche qui un'altra infrazione al codice della strada qui ci sono tutti gli esempi della sosta sulle strisce pedonali vedete qui abbiamo una panoramica dell'attraversamento pedonale in modo diretto questo qui invece è un segnale che si trova sul posto in abbinamento alle strisce pedonali la presenza di questo segnale non è casuale viene emessa viene installato quando manca la segnalazione semaforica cioè il semaforo pedonale qui vediamo i pedoni che attraversano tranquillamente la carreggiata vedete questo è il fatto del punteggio dalla patente che vi ho accennato prima quindi qualora non si dia la precedenza al pedone che attraversa sulle strisce si può incorrere alla sottrazione dei punti dalla patente infatti ci esiste anche la tabella delle infrazioni vedete proprio sull'ultimo dove in alto sta scritto meno 4 punti per il mancato rispetto dell'obbligo di precedenza ai pedoni su strade sprovviste o provviste di attraversamenti pedonali qui c'è la regolamentazione semaforica quindi a maggior ragione col semaforo però aumenta la sicurezza con il semaforo aumenta la sicurezza sia per noi in macchina per coloro che stanno a piedi qui abbiamo l'attraversamento pedonale dipinto sui san pietrini qui abbiamo altre serie di attraversamenti pedonali vedete a croce come si suol dire anche qui altro attraversamento pedonale regolato dal semaforo vedete perché anche il pedone deve rispettare anche lui il semaforo e abbiamo spiegato il preavviso dell'attraversamento pedonale adesso spieghiamo l'attraversamento ciclabile come esiste l'attraversamento pedonale esiste anche l'attraversamento ciclabile molto diverso vedete le strisce ciclabili rispetto a quelle pedonali anche se possono essere dirette o in forma obliqua quindi questo segnale è un segnale sempre di pericolo che preannuncia un attraversamento per ciclisti contraddistinto proprio da appositi segni sulla carreggiata è posto di norma a 150 metri da un attraversamento ciclabile preannunciando quindi l'approssimarsi di un luogo dal quale possono provenire i ciclisti infatti per definizione mia personale l'attraversamento ciclabile vedete non è altro che il passaggio da una pista ciclabile all'altra pista ciclabile mentre l'attraversamento ciclabile è quella che fa parte della carreggiata il comportamento è sempre quello bisogna questa volta moderare la velocità e comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per i ciclisti e in modo da essere pronti a fermarsi per dal loro precedenza vedete qui abbiamo la panoramica abbiamo la carreggiata la pista ciclabile sulla destra il preavviso che stiamo spiegando adesso di pericolo con la punta verso l'alto quindi preannuncia a 150 metri di attraversamento e sul posto abbiamo il segnale blu che indica appunto l'attraversamento ciclabile e infatti come quel fatto dei pedoni quell'attraversamento ciclabile blu si trova sul posto quando manca il semaforo ovviamente il comportamento è sempre quello sulle strisce sono evitata la sosta e la fermata e bisogna sempre moderare la velocità e l'occorrenza fermarsi vedete da qui si vede che i ciclisti possono uscire da destra o da sinistra ecco qui si vede chiarissimo stiamo proprio in corrispondenza delle strisce anche in questo caso non si può sorpassare veicoli che si sono arrestati per far attraversare i ciclisti come quello per i pedoni qui abbiamo il ciclista che sta attraversando per ora si trova ancora sulla pista ciclabile e poi successivamente ci sarà l'attraversamento qui abbiamo la pista ciclabile qui abbiamo l'attraversamento ciclabile vedete ecco qui abbiamo la panoramica completa dell'attraversamento ciclabile anche qui la fine e il proseguimento di un percorso pedonale ciclabile vedete e poi ci sta l'attraversamento questa era una zona promiscua qui altro attraversamento ciclabile precisando il senso di percorrenza dei ciclisti anche qui vedete il ciclista ottiene la precedenza qui abbiamo il semaforo qui abbiamo il segnale vedete anche il ciclista deve rispettare il semaforo quindi in questo caso il ciclista può attraversare la carreggiata vedete ottenendo il diritto di precedenza qui il ciclista può attraversare la carreggiata stando sempre attenti ai veicoli che sopraggiungono così come noi dobbiamo stare attenti a loro qui il ciclista ottiene sempre la precedenza vedete perché c'è la lanterna semaforica qui attraversa quindi il ciclista la carreggiata anche qui abbiamo un altro attraversamento ciclabile qui vedete qui vedete abbiamo sia l'attraversamento pedonale ciclabile dove sia i pedoni che i ciclisti avranno il diritto di precedenza perché i veicoli avranno lo stop e infatti c'è anche la scritta stop sulla pavimentazione stradale qui abbiamo l'attraversamento ciclabile ancora qui questa volta il ciclista deve fermarsi non può pretendere di attraversare la carreggiata vedete quindi si arresta insieme ai veicoli della strada trasversale quindi il ciclista deve attendere che il semaforo gli dia via libera anche qui abbiamo l'attraversamento ciclabile qui abbiamo sia parallelamente l'attraversamento pedonale e ciclabile e questa è l'immagine di una ciclista definita anche velocipede anche qui abbiamo sia l'attraversamento ciclabile che pedonale vedete qui il ciclista deve attendere il passo vedete quindi deve stare attento sia i pedoni che i ciclisti hanno la luce rossa in questo caso quindi ciclista aspetta sulla pista e il pedone aspetta sul marciapiede per poi poter attraversare se il ciclista deve adoperare le strisce pedonali lo deve fare a tal modo conducendola a piedi vedete qui invece abbiamo i percorsi riservati e poi sulla carreggiata abbiamo l'attraversamento ciclabile anche qui un altro attraversamento ciclabile quindi abbiamo spiegato il segnale del preavviso di pericolo di attraversamento ciclabile adesso spieghiamo la discesa pericolosa attenzione a non confondersi tra salite e discesa praticamente c'è un trucco per capire se questa è una salita o una discesa vedete la macchina io vi ho fatto vedere il senso di percorrenza praticamente si legge da sinistra verso destra come se io vorrei riscrivere il numero della percentuale oppure fate finta di scrivere il vostro nome su quella pendenza e noterete che quando vado a scrivere tendo a scendere se immagino che quello è un piano d'appoggio quindi è una discesa pericolosa questo segnale posto sempre a 150 metri preannuncia una discesa particolarmente pericolosa in conseguenza di fattori locali sfavorevoli la cui pendenza è specificata in percentuale sul segnale stesso quindi abbiamo visto che la pendenza è del 10% ovviamente preannuncia solo una pendenza non è una variazione di pendenza perché la variazione di pendenza c'è variazione e vorrà dire che era il dosso o la cunetta perché era sia salita che discesa o discesa e salita qui invece abbiamo unicamente una sola pendenza nel senso che abbiamo comunque la visibilità quindi abbiamo detto che è una discesa mi raccomando si legge da sinistra verso destra che pericolo comporta questa discesa in tale tratto di strada aumenta lo spazio di frenatura del veicolo qui del 20% per giunta ancora più ripida allora praticamente lo spazio di frenatura è il tempo che si impiega per arrestare il veicolo quando andiamo in discesa aumenta la velocità aumenta la forza peso aumenta la forza d'inerzia e quindi per leggere la fisica il veicolo fa più sforzo a frenare potrebbe aumentare di più anche la velocità e quindi per quanto per quanto concerne per comportamento bisogna moderare la velocità ma inserire una marcia adeguatamente bassa per poter sfruttare adeguatamente l'azione frenante del motore quindi impiega più tempo per arrestare il veicolo quindi non bisogna mai percorrere questi tratti con il pedale alla frizione abbassato oppure la domanda vi dice mettere a folle spegnere il motore e la discesa ci porta giù poi dopo non funziona nel servofreno e nel servosterzo quindi chi mette in folle deve essere appunto un folle non deve mettere in folle la marcia ma deve mettere una marcia bassa così è il motore che fa da freno utilizzando appunto il freno motore praticamente questa tecnica serve anche per evitare l'uso prolungato questa tecnica serve soprattutto per evitare l'uso prolungato dei freni per non surriscaldarli altrimenti diverrebbero inefficienti vedete qua è un SUV che 4x4 che sta scendendo giù appunto non ha discesa quindi mettere una marcia bassa o la prima o la seconda a seconda delle condizioni vedete voi dovete evitare questo dovete evitare il surriscaldamento dei freni perché se usiamo a lungo i freni le pasticche pastiglie il disco si può surriscaldare quindi gli elementi frenanti si possono surriscaldare e non diverrebbero più efficienti qui abbiamo la pendenza sempre in discesa espressa in percentuale del 14% e sotto mi fa capire l'estesa di questa pendenza quindi questa discesa si estende per un chilometro punto 7 inoltre bisogna aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede dato che aumenta lo spazio di frenatura quindi non solo dobbiamo evitare il surriscaldamento dei freni ma anche evitare di tamponare i veicoli che procedono più lentamente quindi di usare molta prudenza soprattutto se la strada è bagnata infatti se la strada è bagnata lo spazio di frenatura aumenta di 3-4 volte in più anche qui abbiamo un altro surf che scende giù scende giù a valle vedete così viene letto come il segnale la pendenza è sempre in discesa vedete qui abbiamo due caraggiate separate mentre uno scende l'altro sale eccola qua la pendenza quindi usare sempre mi raccomando marce basse qui sempre discesa del 10% anche in questo caso soltanto moderando la velocità usando le marce basse eviterete di non tamponare sia veicoli che qualche pericolo dinanzi a voi puoi stare attenti quando piove perché aumenta lo spazio di frenatura se la strada poi dopo si accumula come se fosse una cunetta si può anche allagare quindi abbiamo spiegato la discesa e questa è una bella immagine del Grand Canyon salita ripida vedete come la macchina in figura abbiamo messo prima sempre da sinistra verso destra sempre devi immaginare di riscrivere il numero o di riscrivere il tuo nome sulla pendenza e quindi è una salita allora preannuncia una salita ripida da percorrere ovviamente sempre con prudenza perché può comportare un pericolo dovuto alle condizioni locali sfavorevoli l'entità della pendenza è sempre specificata in percentuale sul segnale stesso quindi il comportamento è sempre uguale per i motivi sono diversi allora quando dobbiamo salire innanzitutto lo spazio di frenatura non tende ad aumentare come in discesa ma tende a diminuire infatti un altro comportamento se il semaforo è rosso e noi ci fermiamo prima delle strisce pedonali dobbiamo avere l'accortenza di rinserire la prima utilizzando il freno a mano però perché vedete la scritta stop nella parte retrostante dell'abitacolo dobbiamo evitare che il mio veicolo scende e può tamponare il veicolo che mi segue questo non deve accadere quindi bisogna sempre valutare la situazione alzare il freno a mano per poi sganciarlo quando si riparte con la prima inoltre sempre in questo tratto di strada quindi in salita riaccelerare e sganciare il freno di stazionamento che vi ho detto prima vedete e poi man mano utilizzo sempre però le marce adeguatamente basse ma questa volta il motivo non è per il surriscaldamento dei freni è perché se no il motore va sotto sforzo quindi se in discesa si sforzavano i freni qui non dovete sforzare la potenza del motore qui dovete avere un certo margine di accelerazione se necessario infatti se noi saliamo le scale facciamo più sforzo quindi a questo punto il mio cuore batte più velocemente e immaginate che il cuore dell'auto è il motore stesso vedete e quindi è il motore stesso che in salita fa più sforzo ecco il motivo perché in salita diminuisce lo spazio di frenatura e c'è ragione delle marce basse proprio perché fa più sforzo e quello sforzo lo facciamo se rimaniamo a piedi lo facciamo di più quindi questa è una salita vedete un'altra immagine anche qui questo poi è un garage quindi un passo carrabile anche qui stiamo sempre in salita sono tutte le immagini che riguardano il preavviso di questo pericolo cioè della salita ripida e qui è bella ripida vedete il 4x4 fa meno sforzo perché ha tutte e quattro le ruote motrici qui abbiamo una curva in salita vedete anche qui la strada preannuncia una pendenza anche da qui qui abbiamo due carreggiate separate quindi uno che scende e un altro che sale quindi riportato al piano d'appoggio mi raccomando e una salita e abbiamo spiegato la salita ripida pericolosa strettoia simmetrica quindi anche questo è un segnale di pericolo che preannuncia il restringimento della carreggiata o della strada su tutte e due i lati quindi su ambe due i lati ecco il motivo perché viene definito strettoia simmetrica giusto al centro si racchiude la strada vedete quindi ci sarà probabile difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti dal senso opposto perché la strada si restringe quindi moderare la velocità e all'occorrenza fermarsi se l'incrocio risulta malagevole vedete questo è il comportamento a due corsie e a doppio senso di circolazione probabilità che uno dei due all'occorrenza debba arrestarsi anche in questo caso non c'è spazio per passare entrambi anche quest'altro questo è se non erro è Pozzuolo e Arco Felice Vecchio vedete e qua è una spiacevole situazione dove l'autista non ha calcolato bene la larghezza si vede che c'era il segnale anche del divieto se noi rispettiamo le sagome strette c'è il rischio che dopo il veicolo deve andare dallo sfascia carrozze anche in questo caso vedete non ce la facciamo non abbiamo bene calcolato le manovre quindi per evitare questa spiacevole situazione o non abbiamo rispettato la sagoma del veicolo oppure non abbiamo fatto bene la manovra abbiamo sottovalutato vedete infatti lì ci sta il divieto di transito per i veicoli più larghi di due metri e mezzo vedete quindi è colpa dell'autista anche in questo caso quindi queste sono le immagini di una strettoia che è stata segnalata ma è stata sottovalutata dall'utente o perché non ha rispettato la sagoma o perché non ha rispettato la velocità il segnale se a fondo giallo è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce ovviamente la larghezza della carreggiata vedete depositi materiali macchinari per lavori in corso qui infatti si restringe la carreggiata e diventa ad una corsia infatti il segnale può essere eseguito da uno dei due segnali questo qui B è il diritto di precedenza nei sensi unici alternati quest'altro B è il dare la precedenza nei sensi unici alternati quindi questi due segnali di strettoia simmetrica vedete può essere abbinato con uno dei due seguenti segnali diritto di precedenza e il dare precedenza quindi qua siccome c'è il semaforo vedete prevale sulla segnaletica altrimenti dovevo dare la precedenza ma qui comunque mi tocca fermarmi perché avendo il semaforo rosso devo far passare i veicoli dal senso opposto qui per esempio devo dare sempre la precedenza vedete dai veicoli che vengono dal senso opposto qui invece abbiamo il diritto di precedenza questa volta la strettoia è asimmetrica perché interessa solo un lato il lato sinistro qui dobbiamo sempre rallentare perché a 50 metri dovremmo fermarci c'è lo stop anche qui c'è un passaggio stretto poi abbiamo anche uno specchio parabolico sulla destra qui abbiamo il senso unico frontale con strettoia anche qui altre immagini di restringimento di carreggiata e anche qui un'altra strettoia frontale dove non posso entrare in quella strada anche qui vedete incrocio difficoltoso con gli altri veicoli il passaggio già è stretto quindi a due corsie a doppio senso dobbiamo stare più attenti adesso spieghiamo la strettoia asimmetrica a sinistra è strettoia asimmetrica a destra quindi questa è la strettoia asimmetrica a sinistra vedete che presegnare un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro allora praticamente i segnali di pericolo raffigurati che possono trovarsi anche su strade a doppio senso di circolazione preannunciano appunto un restringimento pericoloso della carreggiata da un solo lato attenzione ai quiz non si tratta di una confluenza quindi la probabilità della difficoltà di incrocio con veicoli provenienti dal senso opposto se la strada è a doppio senso la strettoia è posta sul lato sinistro oppure come in questa immagine sul lato destro quindi è dovuta a muretti e ostacoli fissi o altro quindi ostacoli fissi che sporgono dalla parte di destra come in questo caso vedete e anche in quest'altro vedete qui abbiamo la strada a doppio senso con strettoia vedete anche qui qua sicuramente sarà senso unico molto stretta se a fondo giallo i segnali sono posti in presenza di lavori in corso o di cantieri stradali che restringono la carreggiata quindi per quanto riguarda il comportamento qui abbiamo la strettoia simmetrica da destra sempre a carattere temporaneo vedete quindi si restringe sul lato destro per presenza di lavori in corso anche qui c'è il passaggio obbligatorio a sinistra in più abbiamo anche un'intersezione con lo specchio parabolico in alto a destra qui abbiamo il limite di velocità da rispettare il passaggio obbligatorio inizio del cantiere un altro limite di 30 e il divido di sorpasso qui abbiamo la riduzione delle corsie a 500 metri per lavori in corso quindi praticamente anche qui per lavori in corso e anche qui vedete dobbiamo passare a sinistra perché hanno chiuso la strada sempre per lavori in corso qui abbiamo il senso unico alternato gestito dal semaforo qui abbiamo la strettoia ad ambo i lati vedete dovuta sia per l'ostacolo a sinistra fisso che l'ostacolo momentaneo a destra per cantiere qui abbiamo un altro senso unico alternato dobbiamo attendere quindi dobbiamo dare la precedenza anche qui per lavori in corso quindi in breve tutti i segnali di strettoia comportano di modellare la velocità e si occorre di fermarsi quando l'incrocio non sia possibile ovviamente deve arrestarsi il conducente il cui senso di marcia è ostacolato per lasciar passare i veicoli che provengono dall'altro senso come in questo caso l'appunto sulla destra si ferma per far passare a causa della strettoia vedete questo è il comportamento da adottare quindi valgono per tutte e tre i segnali che abbiamo spiegato sia quella ad ambo i lati come in figura quindi strettoia simmetrica e sia quelle asimmetriche che partono o da destra o da sinistra siamo giunti al ponte mobile quindi questo è un altro segnale di pericolo che preannuncia un ponte mobile vedete qua abbiamo un video reale sul comportamento del ponte mobile vedete quindi il ponte quando è in manovra si attiva il suono acustico a campana si abbassano le barriere vedete e dobbiamo stare attenti perché comincia a sollevarsi quindi per i veicoli pedoni ciclisti quel che sia non possono attraversare il ponte devono attendere la fine del pericolo che si riabbassa e si spengono le luci e i suoni acustici in questo caso consente il passaggio vedete per via mare deve attendere ancora un pochettino per avanzare piano piano accostando a dritta vedete faccio presente che il ponte si sta ancora sollevando adesso ne passa un'altra ecco qui abbiamo l'immagine reale di un ponte mobile in manovra in corrispondenza di raccordi portuali banchine portuali eccetera un'altra cosa interessante da sapere sul ponte mobile che può essere integrato anche con un pannello indicante gli orari di manovra o di funzionamento e poi viene installato anche il pannello distanziometrico sì proprio quei pannelli distanziometrici che abbiamo visto nel passaggio a livello quindi a tre barre rosse quello posto a 150 metri dopo il segnale si può trovare un dispositivo con luci rossi lampeggianti come in questo caso vediamo che lampeggeranno alternativamente per consentire l'arresto dei veicoli quindi moderare la velocità per potersi arrestare se sono in funzione delle luci rosse lampeggianti qui ancora stanno passando qui abbiamo una barca ancora penso che a questo punto comincerà ad abbassarsi eccoli ecco il ponte comincia ad abbassarsi e notiamo che i veicoli sono pronti a ripartire insieme a ciclisti e pedoni per attraversare questo ponte senza problemi e senza rischi quindi abbiamo spiegato in maniera dettagliata adesso ci saranno altre immagini sempre relative al ponte mobile non deve dire il ponte elevatoio perché il ponte elevatoio stava sui castelli quindi questo è un ponte mobile c'è una struttura stradale che tende ad alzarsi e a riabbassarsi non è un ponte girevole attenzione qui esistono i ponti girevoli ma questo localizza solo il ponte mobile quello che si alza a 360 gradi e adesso la loro attesa è terminata quindi possono tranquillamente attraversare questo ponte devono sempre attendere che il semaforo gli dia il via libera ecco qui è uscito il verde per i pedoni ciclisti ed auto veicoli un po' per volta prima dal lato sinistro e poi si libera dall'altro lato ecco qui abbiamo spiegato il ponte mobile quindi queste sono altre immagini relative al pericolo che abbiamo spiegato vedete l'esempio in corrispondenza di banchine portuali aree portuali qui è più lungo quindi viene diviso in due sezioni questi sono i pannelli integrativi vedete che indica gli orari di funzionamento del ponte questi sono i pannelli distanziometrici posti a 150 150 metri dal ponte mobile queste sono le due luci rosse che si accendono alternativamente quando il ponte è appunto in manovra anche qui vedete qui si alza ad ambedue le parti dei fronti anche qui e abbiamo spiegato il ponte mobile siamo giunti alla fine della prima parte del secondo capitolo quindi ci fermeremo per adesso qui e colgo l'occasione per salutarvi a tutti e vi aspetto al prossimo video che seguirà infatti spiegheremo la seconda ed ultima parte dei segnali di pericolo grazie per la cortese attenzione a voi tutti buon proseguo grazie per la cortese grazie per la cortese grazie per la cortese grazie per la cortese grazie per la cortese